Ciao ragazzi, bentornati e bentornati qui su BB Cool. Allora, come vedete, alle mie spalle c'è il nuovo giardino e poi vi prometto di portarvi a fare un giro insieme a me in tutto questo nuovo spazio verde che abbiamo a disposizione. Ve lo presento un po' così oggi perché voglio in realtà introdurvi anche un discorso nuovo. Come sapete, noi oltre quattro anni fa siamo partiti con l'idea di farvi vedere tutto quello che gravita intorno al mondo del barbecue, quindi macchinari, combustibili, tipologie di prodotto e anche poi le punte d'eccellenza per quanto riguarda la distribuzione di carni, l'allevamento, per quanto riguarda le spezie, per quanto riguarda i combustibili, insomma, per farvi capire proprio tutto quello che gravita intorno a questo fantastico mondo. A quattro anni di distanza ci siamo posti un dubbio. Che cosa possiamo aggiungere adesso che siamo in uno spazio ancora più verde di quanto non fosse il nostro terrazzo che abbiamo lasciato così a mele in cuore? Noi abbiamo cercato una soluzione che ci consentisse di fare cose all'aperto, ancora, ma di avere uno spazio nostro con anche un pezzettino di verde. E questo pezzettino di verde ci consentirà di fare che cosa? Di lanciare una nuova playlist. Con questa nuova playlist, che al momento si chiama Outdoor, perché non abbiamo grandissima fantasia e creatività, sarà il caldo, ma in questo periodo non riusciamo proprio ad arrivare dove vorremmo esattamente. Al momento si chiamerà Outdoor, come vi ho già detto. Inizialmente ce l'aveva venuto in mente Jardin Cool, ma non è che suonasse proprio bene. Ecco, mettiamola così. Vi faremo vedere un pochino tutte le possibilità che voi avete, o almeno parte delle possibilità che voi avete, per arredare il vostro giardino, per fare manutenzione. Abbiamo già comprato un Toserba e soltanto guardando e facendone l'unboxing mi è venuto in mente, no, io questo lo devo far vedere. L'ho comprato, voglio farvi vedere come funziona. Poi un soffiatore, un decespugliatore, avremo una piccola piscina gonfiabile. Insomma, tutte le opportunità che ci sono anche qui al vostro arco, nella vostra faretra, per riuscire non soltanto a grigliare, cosa che resterà naturalmente core, quindi centro, nucleo, chiamatelo come volete, di BB Cool, ma anche una variazione sul tema, appunto legata al mondo esterno, alla bellezza di stare fuori, in questa stagione è stupendo stare fuori, magari non sotto il sole perché ci sono 47 gradi più o meno, e cercheremo di farvi vedere, anche qui, crescendo insieme a voi, quindi se avete consigli ce li dovrete sempre mettere qui sotto, per riuscire a fare la manutenzione del nostro verde nella maniera migliore possibile e anche per vedere come possiamo trasformarlo in ambito lifestyle, cioè per trasformarlo in un ambito che possa essere vissuto non soltanto per mantenerlo, ma proprio per viverlo a 360 gradi. Sicuramente ritroveremo il nostro vecchio braciere che metteremo al centro magari di un salottino nel quale magari quando farà un pochino più freddo potremo metterci a chiacchierare con gli amici per fare ambiente, oppure potremo fare tante cose che adesso non mi vengono in mente, perché? Perché è arrivato adesso il momento di farvi vedere che cosa? Di farvi vedere il nostro giardino nuovo. Allora, adesso io giro. Tu ragazzi, portate pazienza perché non è ancora pronto, eh? e sto girando un pochino così a casaccio per mostrarvi tutto. Qui vi ricordate che c'era la cariola una volta, adesso fortunatamente l'han tolta perché i lavori sono finiti, vedete che l'erba è molto alta e stiamo però arrivando a fare tutto quello che ci serve. Guardate che cosa hanno già fatto invece Diana e suo padre, hanno già messo l'angolo dell'orto. dove potremo andare a prendere i nostri, diciamo, ingredienti per fare magari qualche ricetta in più diversa, pensata anche al mondo delle verdure. Qui vorremmo fare tutto un angolo di aromatiche, perché è un'idea che ci era venuta già da un po'. L'abbiamo già trovato una casetta molto comoda e abbiamo un albero che sarà un pochino complicato da potare, però fortunatamente i vecchi proprietari l'hanno già fatto. Vedete che qua è già passato qualcuno, qui abbiamo una casetta da montare e qui abbiamo la parte posteriore del giardino dove con ogni probabilità andremo a mettere una pergola. Per cui diciamo che le varie location di BB Cool da una parte e i vari scorci saranno tutti nuovi e riusciremo certamente a fare qualcosa di insolito, mi auguro, e anche e soprattutto a fare un pochino così di intrattenimento perché è quello che ci siamo prefissati fin dal primo giorno. Ragazzi, video velocissimo, me ne rendo conto, ditemi qui sotto quello che pensate però, così almeno entriamo direttamente sulla stessa lunghezza d'onda e ditemi soprattutto che cosa vorreste che provassimo, così ce lo procuriamo e ve lo facciamo vedere. Ragazzi, vi ricordate tranquillamente come iscrivervi al canale e soprattutto come così guardare un altro video se ne avete voglia. Grazie, bacione, ciao a tutti.